Bentornati su News Mix Up. Prima di tuffarci nel video, vogliamo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche, oltre a lasciare un mi piace se apprezzate il nostro contenuto. Oggi parliamo di un ritorno che ha sconvolto il mondo televisivo, Barbara D'Urso è tornata, più risentita che mai, sfidando Pier Silvio Berlusconi in una recente intervista. Durante questo momento epocale, la conduttrice ha rivelato segreti celati che hanno scatenato l'ira della dirigenza di Mediaset, le rivelazioni di Barbara coinvolgono questioni personali che potrebbero danneggiare completamente la vita di Pier Silvio. Ma come tutto ebbe origine. Il conflitto tra i due ha avuto inizio quando Pier Silvio e il gruppo Mediaset licenziarono improvvisamente Barbara da pomeriggio 5. Senza alcun preavviso. Questa decisione ha sommerso la presentatrice di insulti e rimproveri, lasciandola nel dolore, nello sgomento e nell'indignazione, Barbara ha dichiarato di non essere stata informata del suo licenziamento e di non aver avuto l'opportunità di congedarsi dal suo affezionato pubblico. Inoltre, ha accusato Mediaset di sfruttarla e di costringerla a sopportare numerose difficoltà. Sebbene si sia riservata di svelare tutti i fatti nel futuro, al momento ha condiviso il sentimento di tradimento che ha provato, indipendentemente dal punto di vista personale, la carriera di Barbara D'Urso è stata innegabilmente una delle più longeve e di maggior successo della televisione italiana. Ha guidato molti programmi di grande rilievo, tra cui Domenica Inn, Live, Nonela D'Urso e, appunto, Pomeriggio 5. Nonostante alcuni scandali che l'hanno coinvolta nel corso degli anni, è sempre riuscita a mantenere un legame forte con il suo pubblico affezionato. L'addio di Barbara, Pomeriggio 5, segna un momento epocale per la televisione italiana, poiché la presentatrice è stata una delle figure di spicco della TV per molti anni. La sua assenza sarà certamente avvertita, e il mistero riguardo a chi la sostituirà è ancora tutto da scoprire. Diverse teorie circondano le ragioni del licenziamento di Barbara da Pomeriggio 5. Una delle ipotesi più plausibili è che Mediaset, come azienda privata, abbia il diritto di rescindere i contratti dei suoi dipendenti se lo ritiene opportuno. Potrebbe essere che la conduttrice non abbia soddisfatto le aspettative della rete o abbia richiesto un aumento di stipendio che le è stato negato. Inoltre, sembra esserci una tendenza da parte di Pier Silvio Berlusconi ad essere inflessibile con le star della sua emittente. Come dimostrato in passato con celebri presentatori come Mike Bongiorno e Paola Perego, Barbara D'Urso ha accumulato una notevole fortuna nel corso degli anni grazie alla sua carriera televisiva, ma esistono diverse versioni riguardo al suo compenso. Ciò nonostante, il suo addio a Pomeriggio 5 costituisce un momento rilevante nel panorama televisivo italiano. La sua carriera e l'influenza sul pubblico hanno suscitato dibattiti e incertezze riguardo al futuro, siamo tutti ansiosi di scoprire cosa riserverà il destino per la famosa conduttrice e chi sarà il suo successore nel cuore dei telespettatori italiani. Non dimenticare di visitare il nostro canale News Mix Up. Lascia un commento su questo video e se ti è piaciuto metti un like attiva la campanella ed iscriviti al canale. Alla prossima!